Lucidatura e trattamento illuminante. Che cosa sono? Che cosa sono la lucidatura dei capelli e il trattamento illuminante? La prima procedura rappresenta l'impasto meccanico sulla chioma ai fini di migliorare il suo aspetto. La seconda, invece, include il trattamento dei capelli con i prodotti speciali curativi e ricostituenti che penetrano gli strati profondi della struttura. Quindi tui e due i metodi sono pensati per ricostituire l'asto curato dell'acconciatura. Tuttavia, dopo la lucidatura la quantità delle sostanze nutrienti all'interno dei capelli non aumenta, essi diventano semplicemente più lisci ed uniformi. Invece, l'impasto del trattamento illuminante rifornisce la chioma ai componenti inefici e crea sulla superficie uno strato protettivo. Indicazioni Entrambe le procedure sono indicate per quelle donne, i cui capelli sono disidratati e rovinati. La lucidatura è molto utile da effettuare se avete l'intenzione di far crescere la chioma, visto che vengono tagliate solamente le punte spezzate preservando la lunghezza. Se avete bisogno tosto di risanare i capelli e prevenire i danneggiamenti nel futuro, optate per il trattamento illuminante. Entrambi i trattamenti sono consigliati alle donne che vivono il ritmo caotico delle grandi metropoli. La lucidatura aiuterà a sbarazzarsi dei risultati dell'impatto nocivo dell'ambiente esterno. L'altra procedura, invece, è indicata per coloro che hanno bisogno dell'effetto non solo cosmetico ma anche curativo. Controindicazioni Qualsiasi trattamento da salone ha dei lati sia positivi che negativi. Per alcune donne esso può diventare l'unico modo per salvare la chioma, per qualcun'altra solamente aggraverà il problema. La lucidatura è sconsigliata per coloro che hanno i capelli fini e radi. La rimozione meccanica delle due punte, anziché migliorare il look dell'acconciatura, la lascerà senza quel po' di volume. La controindicazione di RET per effettuare la tecnica è la dermatite acuta. Il trattamento illuminante prevede l'applicazione dei composti specifici, quindi non può essere realizzato nel caso abbiate l'allergia per almeno un ingrediente. Inoltre, dovete sapere che i rimedi appesantiscono le ciò, quello che potrebbe aggravare il problema della caduta intensiva e dell'alopecia. Dovete rinunciare alla terapia se avete lesioni, eruzioni e malattie emicotiche del cuoio capelluto. Pro e contro La differenza tra i due trattamenti è chiara, essi donano diversi risultati a lungo andare, nonostante l'astro esterno migliori. Subito dopo la seduta nel salone Come delle procedure queste due hanno i loro pregi e difetti. Si devono considerare prima di scegliere l'una o l'altra. Secondo le opinioni la lucidatura viene fa' una volta ogni 3 a 4 mesi. Tuttavia in questo periodo la chioma ha bisogno di una cura particolare attraverso l'applicazione delle maschere e degli oli idratanti che prevengono la ricomparsa delle due punte. L'effetto del trattamento illuminante dura fino a 4 a 6 lavaggi dei capelli, subito dopo si deve ripetere la procedura. Il ciclo completo include 5 sedute. Tecnica. Inizialmente ti e due trattamenti erano considerati professionali. Tuttavia, con il passare del tempo sono diventati molto popolari e adesso si possono realizzare anche in modo casalingo. Oggi ogni donna può comprare la macchinetta tosatrice con la pestina apposita per tagliare le punte spezzate. Inoltre, in commercio si trovano i kit professionali degli oli nutrienti per capelli. Comunque gli esperti sconsigliano di effettuarli a casa se non siete sicure delle vostre capacità e del risultato. Sarà meglio rivolgervi al salone dove i parrucchieri esperti possono valutare lo stato della vostra chioma e consigliare il metodo per la cura più adatto personalmente per voi. Le tecniche del trattamento illuminante e della lucidatura sono completamente diverse. Trattamento illuminante e la procedura si divide in alcune fasi, durante le quali vengono applicati dei determinati prodotti. I rimedi si rinforzano a vicenda quindi vanno utilizzati in ordine preciso. Il procedimento si svolge secondo lo schema seguente di te si fa allo shampoo usando quello per la detersione profonda. Esso favorisce l'apertura delle squame della cuticola attraverso le quali le sostanze nutrienti devono penetrare profondamente il capello. Con l'asciugamano la chioma viene leggermente asciugata. Sui capelli umidi viene applicato un balsamo speciale lasciato in posa secondo le istruzioni. Il rimedio idrata e liscia la chioma. Dopo il balsamo della lunghezza viene trattata con un olio speciale. Quest'ultimo è studiato per ricostituire e nutrire profondamente gli strati interni del capello. Dopo aver finito di lavare i capelli dai residui dei prodotti viene applicato uno spray protettivo. Esso crea una pellicola invisibile sulla superficie del capello. Grazie alla guaina la conciatura acquisisce quella lucentezza specchio tipica e viene protetta dall'impasto distruttivo dell'ambiente esterno. Dopo te le procedure e i capelli si possono asciugare con o senza il phon. Il parrucchiere poi vi darà i consigli su quello che riguarda la cura successiva a casa. Se li seguirete, riuscirete a prolungare l'effetto illuminante e godervi più a lungo la vostra ponciatura bella e curata. Le foto delle donne che si sono fatte questa procedura confermano che il risultato si vede già dopo la prima seduta. Lucidatura per rimuovere in maniera meccanica le punte spezzate e avete bisogno di una tosatrice con la testina specifica. Quest'ultima è fa in modo tale che le ciòe vengono infilate dentro. Le lame affilate tagliano via i frammenti dei capelli che escono in più direzioni senza toccare e danneggiare i capelli sani. Il procedimento include i passi seguenti. La chioma viene accuratamente lavata ed asciugata senza usare il phon. Talla superficie viene trattata con uno spray per la protezione termica, si lascia ad asciugare. Le ciòe vengono stirate con la piastra lisciante. Esse devono essere perfettamente lisce in modo tale che le punte spezzate escano dalla chioma sana. Si parte dalla nuca con la macchia e le macchia. Le ciòe larghe 3-4 cm vengono separate ed infilate una a una nella testina della tosatrice che poi si chiude e si passa su dalla lunghezza dalle radici fino alle punte. Ogni zona viene lucidata 3 a 4 volte per riuscire a sbarazzarsi di telepunte morte. Alla fine del trattamento viene applicato l'olio idratante dalle punte fino a metà lunghezza. Esso proteggerà la chioma dalla formazione delle punte spezzate future e la reidraterà. Siate pronte perché dopo il primo lavaggio l'onciatura non avrà l'asto uguale a quello dopo la procedura nel salone. Questo fao è dovuto all'utilizzo della piastra all'inizio della lucidatura. Essa stira la chioma, ma l'effetto sparisce dopo il primo contatto con la è l'acconciatura ripristina il suo look naturale. Conclusione, sia il trattamento illuminante sia la lucidatura hanno un impagno efico sulla chioma. È più comodo rivolgervi al salone se non avete tempo da dedicare alla terapia prolungata casalinga. Tie due metodi hanno i loro vantaggi e svantaggi che devono essere considerati prima di fare la scelta. Scegliete la tecnica migliore per i vostri capelli e godetevi la loro trasformazione.